Buonasera a tutti e benvenuti alla seconda serata degli incontri di Leggendo Metropolitano. Io mi presento, sono Anna Paola Ricci, lavoro a TG1, ma sono cagliaritana, le mie radici sono qui. E infatti, insomma, Radici è il titolo di questo incontro, il titolo non solo della rassegna di Leggendo Metropolitano, ma anche dell'incontro che noi dedichiamo ai libri che ci hanno fatto. Le nostre radici sono fatti da libri, sono fatti da letture. E io ho il piacere e l'onore di presentarvi Antonio Franchini, il direttore editoriale della casa editrice Mondadori per la narrativa italiana e straniera. Paolo Mauri, che è stato caporedattore della pagina culturale di Repubblica. Lui è un esperto anche di letteratura dei autori del Nord, come Carlo Porta. Romana Petri, una scrittrice tra le più interessanti del nostro panorama. Ha vinto il premio Mondello, Grinziane Cavour, è stata finalista al premio Strega. Le vive tra l'Italia e Lisbona. Modera, Saverio Simonelli. Buona serata. Buonasera, anche da parte nostra. Benvenuti. Il tema appunto è quello delle radici, è stato già declinato ampiamente per chi ha partecipato oggi pomeriggio allo splendido reading di Gianluca Favetto. La relazione tra le radici e l'albero, tra l'albero e la lettura, pensavo di voler impostare questa nostra chiacchierata partendo dalla constatazione che già si faceva oggi pomeriggio. Vedete, chi parla il secondo giorno ha lo svantaggio che le cose migliori sono state già dette e però non è neanche l'ultimo per cui diceva che alla fine non ci sono neanche metri di paragone. Quindi siamo in questa condizione un po' a metà tra chi ha già espresso la propria visione e chi invece verrà magari a contraddire la nostra. Parlando di radici e parlando di libri mi veniva subito in mente che le radici possono essere viste non soltanto come qualche cosa che sugge nel terreno ma per esempio in alcune mitologie come nella mitologia germanica antica addirittura le radici dell'albero che tiene il mondo, l'Iggdrasil, sono rovesciate. Lo stesso Odino, il dio del panterno nordico, rimane appeso appunto in un albero per avere la divinazione sulle cose del mondo ma senza andare così lontano e così ancestralmente alle origini il tema dell'albero è un tema presente in qualsiasi letteratura anche nelle espressioni contemporanee e per iniziare questa serata con tante persone autorevoli che si confrontano giornalmente con i testi, con il libro mi viene in mente di pensare che visto che il tema è i libri che ci hanno formato, i libri che ci hanno fatto di provare così, tanto per rompere il ghiaccio, per aprire il discorso a vedere se c'è un albero genealogico dei libri di ciascuno di noi perché evidentemente non c'è un solo testo, magari c'è quel testo del cuore particolare che ci ha toccato, colpito l'immaginazione, ha cresciuto la nostra esperienza, il nostro sguardo sul mondo in un momento particolare della vita però è anche abbastanza evidente ed elementare che si possono fare dei percorsi personali che magari partono da un libro recente per salire su su fino magari davvero a quello iniziale per cui volevo approfittare come punto di partenza di chiedere, chiederei anche per dovere di cavalleria romana Petri, di aprire lei se puoi ritrovare un tuo albero genealogico dei libri ovviamente non devi fare una cosa così ampia però qualche snodo fondamentale, qualche nodo di quest'albero Funziona? Sì Allora i miei libri iniziali sono nati quando io non sapevo leggere perché ho avuto il privilegio di avere un padre speciale che è stato un famosissimo cantante lirico negli anni 60 però era molto diverso dai cantanti lirici di quell'epoca che avevano una cultura un po' diciamo simile a quella dei calciatori invece mio padre era un uomo che parlava ma non per scherzo parlava in latino e in greco antico e si scriveva addirittura delle lettere in latino con un direttore d'orchestra che si chiamava Carlo Franci ancora vivo ma di una certa età mio padre quindi era un uomo di grande cultura una cultura più autodidatta perché in realtà lui aveva fatto liceo classico e poi dopo aveva studiato canto e quando io avevo quattro anni quattro cinque anni più o meno quell'epoca cominciò a leggermi e a commentarmi perché per me era quasi incomprensibile quello che mi leggeva Lilia dell'Odissea questi racconti sono stati come dire quelli che mi hanno seccato la psiche nel senso che poi dopo questo linguaggio epico è rimasto proprio nelle mie corde e poi dopo quando io ho potuto scegliere per conto mio quando sono diventata grande diciamo che l'epica è rimasta la mia letteratura preferita ho un figlio che si chiama Rolando e che è un omaggio alla chanson de Roland tra l'altro un libro al quale io ho dedicato un libro che si chiamava Il ritratto del disarmo che è stata un omaggio a questa opera che ho amato moltissimo il nodo di partenza è l'epica il nodo di partenza è l'epica ma è molto strano perché i nodi di partenza poi sono anche quelli di arrivo nel senso che il primo libro che io ho pubblicato che era un libro di racconti nasceva dalle ultime letture fatte cioè l'Ecole du Regarde le Neovanguardie il gruppo 63 però queste cose che erano le ultime lette e quelle che più mi avevano influenzato poi pian piano man mano che ho continuato a scrivere io poi sono tornata alle mie vere passioni cioè tra l'altro ci abbiamo qui casualmente Antonio Franchini che è stato il mio editore per un libro che si chiamava Dagoberto Babilonia un destino che è un libro che mi ha costato quattro anni di vita e che è stato l'omaggio al libro grande e preferito della mia vita che è il Don Quixote quindi diciamo che poi restiamo un po' in tema poi ovviamente le passioni si allargano però sempre lì si torna perché se non è il Don Quixote ma devo andare più vicino allora è il grande Sertau di Ghimaraes Rosa che poi in fondo è un romanzo di grande forza epica forse quella è la cosa che più mi commuove perché nell'epica c'è tutto quel politicamente non corretto che oggi sarebbe terribile accettare praticamente voglio dire cioè Ulisse oggi prenderebbe 28 ergastoli e i Proci probabilmente una multa e invece quando noi abbiamo letto il momento in cui il vecchiarello arriva e dice fate provare pure me a tirare quest'arco e poi li ha uccisi tutti noi siamo stati tutti molto felici di vederglielo fare e quando abbiamo letto l'Odissea e chi ha visto l'Odissea quella dove appariva il grande poeta che leggeva i versi e poi Irene Papas, Becchim Femiou insomma voglio dire la vendetta è uno dei temi fondamentali della letteratura quando la letteratura nasce oggi un po' meno però tutto sommato credo che poi chi ama questo genere di narrativa e di narrazione possa poi rifarsi a quegli esempi per portare avanti qualcosa che va al di là di quello che è corretto o non corretto dire comunque se quindi tu immagini il tuo albero genealogico si parte dalla proprio dall'Iliida e dall'Odissea dall'epica classica per arrivare poi alle ramificazioni invece nell'epica medievali fino all'epica più moderna fino all'epica più moderna come potrebbe essere anche in fondo non so l'Orcinus Orca certo Franchini no questo ci ingarbugliamo cade l'acqua perfetto ma devo dire che io apprezzo molto il sono assolutamente in sintonia con questo questo incipit di Romana che non è un incipit che parte da da libri ma parte dalla memoria paterna e credo che sia questa cosa in in sintonia assoluta con il tema della conversazione di questa sera nel senso che visto che ha aperto lei in questo modo io le vado indietro in maniera assolutamente analoga proprio per dimostrare per ribadire per sottolineare ancora una volta che la lettura in realtà nasce da un da un exemplum dato in famiglia e per me io devo dire è stata la stessa identica e precisa cosa nel senso che anche io ho avuto un padre a cui devo sostanzialmente tutto nel senso che il mio papà ha avuto un un percorso leggermente diverso da quello del papà di Romana ma in qualche modo affine nel senso che mio padre che era un uomo molto vecchio il papà di Romana è nato nel 22 il mio papà era nato nel 13 quindi di fatto era un uomo dell'ottocento perché nascere a Napoli nel 13 significava essere un uomo dell'altro secolo e il mio papà che apparteneva ad una famiglia piuttosto benestante della città aveva però il problema che amando moltissimo i libri e la lettura era ebbe la disgrazia di non andare bene il latino per cui dopo le medie decisero di punirlo mandandolo a ragioneria per cui mio padre ha fatto il ragioniere poi dopo il commercialista essendosi laureato in economia e commercio non essendo minimamente tagliato per fare il commercialista per cui quest'uomo ha fatto per 50 anni una professione che non poteva assolutamente fare però erano anche altri tempi cioè era una società meno aggressiva e meno specializzata della nostra per cui mentre oggi per fare il commercialista a Napoli devi essere ultracapace e probabilmente anche un po' non voglio dire delinquente ma insomma devi essere un uomo abbastanza scafato abbastanza tagliato come si direbbe invece il mio papà che era un bibliofilo che pensava solamente ai libri poter in una società tutto sommato più inoffensiva della nostra come poteva essere la società degli anni 50 nella quale poi tutto sommato avere una laurea e fare esercitare una professione liberale significava stare essere un uomo privilegiato cioè mio padre era un privilegiato per cui anche senza essere particolarmente tagliato per fare il commercialista aveva in ufficio gente che lavorava per lui e lui andava in giro per librerie antiquari dissipando quello che guadagnava in acquisizioni dissennate perché avere una famiglia nella nostra casa a un certo punto siamo arrivati ad avere 8000 libri che significa vi garantisco avere i libri negli armadi averli nella stanza da bagno essere avere una una famiglia devastata perché insomma voglio dire per il delirio di un uomo e il delirio di mio padre che era in realtà io ho detto un bibliofilo in realtà era un bibliomane c'è la differenza tra il bibliofilo e il bibliomane perché il bibliomane è indiscriminato il bibliofilo perlomeno ha una sua idea dei libri da comprare il bibliomane compra tutto e mio padre era arrivato a comprare libri l'enciclopedia insieme ad edizioni di grandissimo pregio lui raccoglieva agli anni 60 e 70 quelli più anziani di voi se lo ricorderanno furono la grande epoca delle dispense dell'enciclopedia dispense dell'enciclopedia di tutti i generi l'enciclopedia del mare l'enciclopedia della montagna l'enciclopedia della letteratura i maestri del colore era il periodo glorioso dei fratelli fabbri mio padre a un certo punto era arrivato a fare l'enciclopedia dell'aviazione l'enciclopedia dei mezzi corazzati fino a che era la storia della seconda guerra mondiale la storia dello spionaggio io a questo punto gli stavo ancora dietro ma quando arrivò con l'enciclopedia dei mezzi corazzati la quale l'enciclopedia dei mezzi corazzati l'enciclopedia dell'aviazione regalava erano i primi tempi del trionfale marketing editoriale regalavano degli aeroplanini da costruire e regalavano dei carri armati da costruire e mio padre era l'uomo più imbranato della terra per cui a un certo punto in queste io l'ho sempre seguito a ruota per cui oltre ad aprire queste aprivi un qualunque armadio e ti rovinavano addosso libri e ti rovinavano addosso anche modellini incelofanati perché ovviamente nessuno era in grado di farli io all'epoca ero già adolescente per cui ero in grado di capire e disse papà ma scusa ma che senso ha l'enciclovedia dei mezzi corazzati la risposta fu e se mi nasce un nipote generale e questo era questo per dirvi il tipo di approccio e per questo approccio che è un approccio essenzialmente dissennato se io devo devo ricordare il mio approccio con la letteratura il nascere come è nato in me il senso della letteratura io ho un libro preciso e credo di averlo solamente io nel mondo che è un libro che mi fu regalato a sei anni che io imparavo a leggere stavo in prima elementare e mio padre nella sua maniera dissennato che come comprava dissennatamente libri per sé così comprava dissennatamente libri per me mi compro mi regalò al Natale dei miei sei anni un libro che si chiamava Pirati Corsari e Filippo Bustieri un libro Mondadori autore Vezio Melegari questo è un nome io poi dopo ho conosciuto quando ho cominciato a lavorare in Mondadori a un certo punto chiesi al Ferruccio Parazzoli che era l'uomo con il quale io lavoravo agli Oscar che è un signore molto più grande di me che mi ha insegnato le poche cose che so di editoria a un certo punto dissi Parazzoli ma lei si ricorda di un certo Vezio Melegari ah come no disse lui un imbecille era un coglione coglione trascendentale ah benissimo io ho imparato a leggere allora questo questo libro questo libro di Vezio Melegari era un libro adatto era un libro da adulti cioè era un libro per adulti ed era un libro i cui capitoli io me li ricordo ancora perché me li ricordo a memoria per esempio c'era un capitolo che si intitolava La rotta degli aromi che cosa può significare per un bambino di sei anni la rotta degli aromi e ogni capitolo era preceduto da un da un esergo da una citazione no per me totalmente inesplicabili cioè non significavano nulla c'erano frasi di questo genere il loro valore è grande e tu li crederesti uniti ma i loro cuori sono dispersi che è una 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 frase bellissima tratta dal Corano io poi ho ho visionato diverse edizioni del Corano non ho mai trovato una traduzione così bella sono gli ebrei questi qua sono riuscito a recuperare solamente che si parlava di ebrei oppure avanzeranno con il cuore vuoto oppure solamente alla sera puoi apprezzare il giorno una moglie quando è morta una spada quando l'hai provata e la birra quando l'hai bevuta proverbio vichingo allora io a sei anni leggevo questo proverbio vichingo e dicevo cosa cazzo significherà questa frase a un certo punto a un certo punto al momento che io facevo i miei esercizi di lettura su questo su questo roba qua a un certo punto io ho capito che cosa significava solamente la sera puoi apprezzare il giorno una moglie quando è morta una spada quando l'hai provata una birra quando l'hai venduta quando l'hai bevuta solamente l'ho capito che avevo vent'anni e a un certo punto ho capito ma guarda un po' e non lo so dei remi facemmo ali al folle volo divina commedia cosa significherà poi a un certo punto sono tutte cose che io ho trovato man mano che vivevo e che al momento per me significavano niente però significavano un niente misterioso questa è secondo me l'essenza del libro e della lettura benissimo e adesso tocca all'albero genealogico di Paolo Mauvi che ci racconta che lui di qualche genitore inevitabilmente dobbiamo fare il trittico visto che si è parlato di genitori non posso che ricordare una cosa che mi riguarda e che riguarda mio padre funziona? si sente? mio padre era milanese come me del resto di cosa si chiamava Ambrogio quindi più milanese di così non si poteva dare e la domenica ci portava spesso al museo della scienza della tecnica a Milano perché era un luogo secondo lui nel quale si poteva così godere di queste sale didattiche in cui c'erano tutte le macchine di Leonardo poi c'era anche un cinema e quindi si poteva anche vedere un film e c'erano tante cose da imparare insomma al museo della scienza e della tecnica e una volta c'era anche qualcuno che vendeva dei libri perché non è vero Antonio che i libri non si vendono come tu dici in un tuo celebre racconto dove i venditori lui ha scritto un racconto in cui si parla dei venditori di libri che debbono ammettere in un viaggio premio di quelli organizzati dagli editori che i libri non solo non si vendono ma non si sono mai venduti nemmeno la celebre Medusa della Mondadori si è mai venduta e questo magari è vero in un senso commerciale ampio però è anche vero che i libri qualche volta si vendono e in quel caso c'era qualcuno che vendeva un cofanetto di libri rilegati dell'Einaudi un cofanetto che conteneva sei libri tutti i libri celebri Turgenev Selma Lagerlof e soprattutto Dickens e c'era mio padre me lo comprò non so se lo pagò a rate o lo comprò con un'elargizione unica e io ebbi presto a casa questo questo cofanetto e scoprì lì che un libro che io avevo già letto e che era il Davide Copperfield in realtà era molto più lungo del libro che io avevo letto perché perché io avevo letto un libro che era la riduzione per ragazzi del capolavoro di uno dei capolavori di Dickens quando vedi che questo libro invece era lungo almeno tre o quattro volte il libro che io avevo affrontato già qualche anno prima mi stupì dico ma come mai i libri sono così diversi possono essere addirittura diversi quindi mi buttai siccome mi era piaciuto molto il Davide Copperfield letto in edizione per ragazzi scoprì questa edizione molto maggiore e mi buttai a leggerla e mi ricordo ancora ancora io mi vedo il pomeriggio buttato sul mio letto con in mano questo libro che io possiedo ancora mentre mangiavo delle cose come fanno i ragazzi ungendolo ovviamente perché poi si mangiavano delle porcherie in genere o delle cose abbastanza sporche questo libro con la copertina azzurra ricartonato bello che io ho lessi e rilessi indefinitivamente che mi piaceva moltissimo e che nel quale poi in qualche modo non mi identificavo ma al quale partecipavo perché poi il bello dei libri che ci possiedono soprattutto in quell'età felice e infelice per altri motivi che è l'adolescenza è proprio quello di incontrare la lettura di un libro come un altrove vero perché noi sì siamo lì nella nostra stanza sbracati sul nostro letto che guardiamo dalla solita finestra però contemporaneamente non siamo più a Milano ma siamo a Londra e siamo in una Londra di qualche secolo prima alle prese con una situazione che naturalmente è una situazione molto diversa da quella che ci circonda insomma impariamo quello che è uno dei capisalti della letteratura cioè impariamo a vivere un'altra vita come se fosse la nostra e quest'altra vita come se fosse la nostra non ci lascia più dico perché la viviamo in maniera così intensa e così forte è che alla fine dobbiamo dire beh ma anch'io ho vissuto come Davide Copperfield ho incontrato queste difficoltà sono stato a pensione dal signor Micobero ho vissuto tutte le le disgrazie e le fortune che questo giovane ha avuto perché non c'è limite alla partecipazione che uno ha alla lettura di un libro soprattutto se questo libro piace molto poi col tempo perché queste cose non si guardano mai quando si è ragazzi e si legge un libro ho scoperto che questo libro era stato tradotto da Cesare Pavese e ho scoperto tra l'altro che anche Giorgio Montefoschi lo aveva letto più o meno nello stesso periodo e anche lui se ne era accorto dopo che era stato Pavese il traduttore perché ovviamente quando noi avevamo 12 o 13 anni non sapevamo affatto chi fosse Cesare Pavese e mai e poi mai saremmo andati a vedere chi era il traduttore tra l'altro penso che a quell'età non ci sfiori nemmeno l'idea del libro tradotto il libro è il libro uno legge e la lingua è quella poi tutto il resto sono cose che vengono fuori in anni più tardi quando uno scopre effettivamente certe cose ecco se io penso a uno dei tanti libri perché poi non è stato solo quello ma sono naturalmente altri libri che hanno contribuito certamente a creare un rapporto con la lettura è un rapporto forte in quegli anni ecco penso con piacere a questo libro con la copertina azzurra cartonato e con delle macchie di unto nel libro ce l'ho ancora e dico e quindi posso ancora vederlo proprio e quando lo prendo in mano e lo apro io risento certe situazioni proprio anche fisiche che avevo provato in quegli anni lontani e devo dire che questo è la reversibilità della lettura una Madeleine di Proust al contrario esattamente fra l'altro a proposito di questa osservazione che faceva Paolo Mauri sulla coscienza della traduzione di un testo mi veniva in mente un racconto narrato e scritto da Michele Mari a proposito della freccia nera un libro che lui possedeva la mamma per il compleanno viene lì il padre per il compleanno viene lì con questo pacchetto e dice guarda che bel libro che ti regalo era la freccia nera allora per nascondere la delusione il piccolo Michele Mari va su nella sua stanza lo apre si accorge che la traduzione era diversa e quindi si illude di leggere oddio si illude qui i traduttologi potrebbero anche instaurare una vera e propria tavola rotonda capisce che il filologo si sta formando e si gusta le differenze le lezioni le lezioni diverse dei due testi Romana Petri in un'intervista tu hai detto io mi sono laureata in letteratura francese però poi a un certo punto ho scoperto la letteratura portoghese in traduzione ho cominciato appunto a leggere questi testi me ne sono subito innamorata e mi sono sentita un po' come a casa come a casa mia nelle interviste si dicono tante stupidaggine certe volte molte volte noi giornalisti li riportiamo come tali forse però questo magari è una premessa un po' goffa per la domanda che spero sia invece un pochino più seria cioè esiste secondo te da principio una vocazione nostra interna che poi riconosciamo nella lettura per cui quel genere lì quella letteratura particolare quella sensibilità particolare quel modo di vedere il mondo di un popolo ma anche perché no di un gruppo di uomini può essere quello che noi non sapevamo eppure era già nostro non è detto che si nasca nel luogo dove dovevamo nascere e non è detto che a volte viaggiando uno non si trovi in un luogo che trova a fine e più magari del luogo in cui è nato la stessa cosa può accadere anche per delle scelte di studio ovviamente quando io avevo 18-19 anni devo dire la verità che l'idea di studiare portoghese proprio non io tra l'altro ho avuto anche un'imposizione nel senso che i miei genitori a quell'epoca mi dissero che dovevo studiare assolutamente il tedesco che era la lingua del futuro cosa più sbagliata perché il tedesco non è affatto la lingua del futuro io sono lavorato in tedesco ecco io insomma pure l'ho studiato l'ho parlato l'ho scritto ero capace di scrivere proprio in tedesco normalmente quando ho smesso di studiarlo ho quello che mio padre chiamava sentimentalmente ho calato una saracinesca sul tedesco e l'ho dimenticato l'ho dimenticato completamente non so più certo se vado in Germania dopo un po' ahimè come dicono gli spagnoli me sale però involontario e dopodiché mi sono messa a studiare invece lo spagnolo perché ovviamente mi sembrava logico il Portogallo è molto lontano apparentemente il Portogallo è sempre quello che si chiama Portugal Pugnino sta laggiù e pensiamo alla penisola iberica sempre come la Spagna io sono capitata per caso in Portogallo nel nel 90 ci sono andata in macchina un viaggio epocale insomma partire da Roma per arrivare a Lisbona in macchina una Peugeot 205 quindi veramente un viaggio epocale di quelli proprio scomodi maledetti e quando ho attraversato tutta la Spagna ascoltando una lingua che mi era già abbastanza familiare perché la stavo studiando per conto mio e quindi la parlavo anche piuttosto bene quando ho attraversato la frontiera ho sentito per la prima volta nella mia vita questa nuova lingua della quale mi sono innamorata perdutamente perché si passa da un tedesco mediterraneo lo spagnolo che in fondo è un tedesco mediterraneo duro forte veloce saettante bellissimo per carità lingua io ho delle cassette intere con Gabriel García Márquez che legge i suoi scritti certo lo spagnolo parlato da un sudamericano è cosa diversa da uno spagnolo parlato da un castigliano il castigliano è una lingua è una fucilata in un certo senso e sono entrata invece in questo paese dove mi parve una lingua dolcissima che poi dolcissima è fino a un certo punto perché fondamentalmente una lingua profondamente gutturale dove i suoni sono moltissimi molto più difficili da imparare rispetto allo spagnolo perché per noi italiani per me poi che parlavo già perfettamente il francese perché ho anche delle origini francesi quindi l'ho imparato da bambina l'ho insegnato per tanti anni entrare in questo paese con questa lingua mi parve dolce e poi fu un incontro così di pura casualità poi piano piano ho cominciato allora a vedere in Italia cosa trovavo di letteratura portoghese trovavo poco perché in realtà in Italia di letteratura portoghese continuiamo a sapere poco io poi ho aperto una piccola casa editrice puntando soprattutto sulla letteratura portoghese però insomma quello che potevo leggere io era ben poco e allora a un certo punto mi sono detta conosco l'italiano conosco lo spagnolo conosco il francese lo leggerò in originale e ho cominciato a leggere questa lingua difficilissima da parlare facilissima da leggere e mi sono resa conto che c'era un materiale importante e che non era solamente Psoa che noi conosciamo perfettamente e neanche Camões ma c'erano anche tanti poeti tanti scrittori del passato o anche più recenti però visto che ognuno di loro ha parlato del libro come dire il libro feticcio il mio libro feticcio non ha ne a che fare né con con la Francia né con il Portogallo né con l'Inghilterra ma con l'America perché guarda caso sti padri che combinano tanti danni però sono evidentemente i datori di prime letture il primo libro che io ho letto all'età di sette anni si chiamava Kazan di John Oliver Curwood ed è stato un libro che mi ha seccata la psiche profondamente perché era la storia bellissima di questo cane Kazan che era un lupo selvaggio e del suo grande amore con lupa grigia era una storia di animali di animali trattati molto male dagli uomini sono gli animali del Klondike lì è stata poi la mia scoperta di quello che è stato l'autore amato per me fino a trent'anni non perché poi non l'abbia più amato ma perché a trent'anni l'ho letto in modo morboso e che è stato Jack London al quale cerco di rifarmi quasi sempre ogni volta che scrivo un libro se non scrivo di un personaggio che somiglia a un personaggio di Jack London e quasi sempre questo personaggio è Martin Eden magari ce ne metto due di personaggi che frullati insieme possono dare questo risultato invece per Antonio Franchini dopo questo Vezio Melegari il passaggio verso un genere una letteratura un gusto particolare come si è come si è evoluto si è gestato come si è formato dove ti sei sentito a casa insomma crescendo con i libri ma io penso penso questo che si possono avere dei sostanzialmente due percorsi si possono avere un'infinità di percorsi ovviamente però in questa infinità di percorsi io ne distinguerei due cioè quello che separa il lettore il lettore semplice quello che sarà per tutta la vita sostanzialmente un lettore e quello che sarà colui che in qualche modo farà della letteratura il centro della propria esistenza sono due percorsi diversi e sono due percorsi che 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 non non necessariamente come dire hanno il colui che si occuperà del di letteratura per farne il centro della propria vita non necessariamente colui che farà questo percorso qua avrà un farà un percorso più intelligente più profondo più specializzato fa un percorso diverso è una cosa diversa cioè io ho una due sorelle una di queste due sorelle è una che probabilmente ha letto più di me cioè la mia la mia seconda sorella era una ragazza che leggeva sostanzialmente un libro al giorno ma lei non a lei interessava la storia a lei interessava sapere come va a finire e interessava cioè il suo approccio con il libro era quello lì il mio era un approccio diverso era l'approccio di quello che a cui non interessava si interessava anche sapere come va a finire perché fino a che sei ragazzo leggi per quello cioè tutti quanti noi abbiamo letto per l'appunto Jack London abbiamo letto il richiamo alla foresta abbiamo letto quell'altro di Buck come si chiama il scusami di Buck il cane Book il il fino a che fino a che tu leggi c'è c'è un momento in cui tu leggi per sapere come va a finire poi a un certo punto arriva un momento può essere verso i 13 14 anni 15 anni 16 anni insomma quel giro di età in cui tu in realtà non non leggi per vedere come va a finire leggi perché per vedere come si fa perché capisci che vuoi in qualche modo replicare quella roba lì che lo vuoi fare anche tu ed è una cosa diversa ed è un ed è un percorso diverso che ti porta a fare dei percorsi strani che non sono gli stessi percorsi di colui che legge per intrattenersi per divertirsi per svagarsi allora chi legge in 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 un altro modo legge probabilmente per per scavare dentro di sé per tormentarsi per e però per tormentarsi in una maniera in qualche modo costruttiva perché tu poi quel tormento lì in quel tormento lì tu cerchi una una soluzione alla tua esistenza allora quando tu cominci a leggere in quel modo là il tuo percorso si sta separando dal percorso di colui che legge per per semplice piacere che è un percorso nobilissimo che colui che invece legge per tormentarsi molto spesso invidia cioè tu io mi ricordo che invidiavo la rapidità con cui mia sorella finiva un romanzo perché io non lo finivo con la stessa rapidità avrei voluto finirlo con rapidità perché si pensa che appunto leggendo velocemente poi avrei potuto leggere un altro un altro ancora un altro ancora perché poi c'è anche il il desiderio di sapere di diventare colto di fare sfoggio ma anche questo aspetto qua il desiderio di fare sfoggio dei libri che hai letto è un desiderio che non appartiene al lettore comune appartiene a colui che vuol leggere diciamo per motivi sbagliati potrei dire allora questo tipo di di percorso è il percorso di chi legge in maniera distorta e sbagliata perché alla fine il il lettore lo scrittore io poi sono diventato in realtà nella mia vita il mio percorso è stato ancora più strano perché io poi sono diventato sostanzialmente un editore poi ho scritto anche dei libri in quanto scrittore ma io sono estremamente poco noto sono noto solamente agli addetti ai lavori però tra gli addetti ai lavori sono ben più noto come editore che non come scrittore quindi nella mia veste di editore poi ho recuperato quel piacere di lettura che in anni cruciali della mia formazione non ho avuto per dedicarmi ad altro e io questo c'è un episodio che che secondo me simboleggia bene un questo questo rapporto malato maniacale con la letteratura che è il rapporto di colui che la vuol fare di colui che la vuol replicare ecco quando quando voi chiedete per esempio il parere di uno scrittore su un libro non fidatevi mai nel senso che il parere di uno scrittore su un libro non è attendibile in quanto consiglio per un lettore lo scrittore riporta inevitabilmente a se stesso poi ha la sua poetica a quello che vuole dire a quello che vuole fare per cui seleziona nella letteratura universale con un criterio utilitaristico per sé quindi la cosa peggiore che si possa fare molto spesso si ritiene che uno scrittore sia dal momento che scrive sia un utile suggeritore di libri non è vero non è vero per niente è vero nella misura in cui sapere che cosa uno scrittore apprezza e che cosa detesta è utile per una miglior comprensione dell'artista è utile per una miglior comprensione della sua opera ma non è utile per avere dei suggerimenti di lettura io una volta ho sentito un'intervista Borges che diceva ah Baudelaire no mi fa schifo Baudelaire a me non piacciono i divani e non mi piacciono i pipistrelli allora questa frase non mi piacciono i divani non mi piacciono i pipistrelli quindi mi fa schifo Baudelaire è una frase che ha un al diciottenne che io ero allora mi sembrò geniale in realtà è una stronzata è utile per capire delle cose di Borges ma non è utile come consiglio di lettura quindi quindi mi fermo qua quindi di converso anche non è affatto utile che un giornalista chieda uno scrittore un giudizio su un altro scrittore a questo punto poi proprio zero quello poi invece ritorno soprattutto soprattutto se vivente rifacciamo un passo indietro e chiediamo allora invece a Paolo Mauri a Paolo Mauri invece i suoi libri con i quali si sente più a suo agio quelli che nell'età appunto quando ha cominciato a capire che diventava un lettore sbagliato per usare la metafora di Franchini sono stati quelli maggiormente complici allora di questa trasformazione beh questa è una domanda a cui è un po' impossibile rispondere per chi come me ha vissuto e lavorato con i libri per tutta la vita quindi essendomi trasformato da diciamo così lettore avventizio dall'epoca del primo David de Copperfield a lettore professionale quindi a critico letterario e poi anche se vogliamo così ad amministratore dell'avventura dei libri nella mia direzione delle pagine culturali di Repubblica è un po' difficile dire qual è stato il mio rapporto con la letteratura possiamo cercare di trovare una strada nel dire che per me la letteratura è una grande forma di conoscenza e quindi quando ci si avventura poi per le strade dei libri si possono vivere appunto molte vite ma anche conoscere molte cose questo non necessariamente è però dovuto al fatto di leggere molti libri mi è sempre colpito il fatto che i nostri grandi intellettuali di qualche secolo fa avevano delle biblioteche molto risicate possedevano due tre quattrocento libri al massimo forse anche meno noi figli della non si stampavano sessantamila novità all'anno no certamente dico ma effettivamente dico noi noi abbiamo tutti delle case con troppi libri e abbiamo troppi libri è troppo facile avere libri e li selezioniamo molto meno di quanto non si selezionavano prima la verità è che poi possedere tantissimi libri o cercare di leggere in maniera vorace tantissimi libri non vuol dire poi avere un gran bel rapporto con la letteratura perché poi in realtà i libri che contano e i libri che ti danno qualche cosa non sono tantissimi cioè uno può fare a meno di moltissimi libri può invece avere un grande bisogno di ritornare a certi libri che ti dicono qualche cosa in particolare non è un caso che poi lo si è detto anche stasera si ritorna ai grandi classici dell'antichità si ripercorrono strade che hanno come crocevia obbligato delle opere di grandissimo livello allora ecco io faccio sempre una distinzione tra libri e opere perché i libri possono essere milioni le opere no ci sono diciamo opere importanti e ci sono moltissimi libri che poi in realtà importanti non sono la fortuna la fortuna è quella di incontrare dei libri opera delle opere che ti danno effettivamente qualche cosa di molto sostanzioso e che quindi diventano anche dei libri da rileggere perché poi non è vero che si rileggono molti libri se ne rileggono pochi se ne rileggono pochi perché c'è anche qui effettivamente noi siamo un po' come dire viziati e vessati dal mercato cioè sembra sempre importante dover leggere il libro che sta per uscire no? la novità esce un libro nuovo è importantissimo beh io ricordo sempre con un certo piacere anche con un po' di sgomento la confessione di un filosofo nostrano col quale mi trovai una volta a fare un viaggio in Sud America con alcuni scrittori italiani allora lo presi sotto braccio e gli dissi senta professore ma lei gli scrittori italiani contemporanei li legge? e lui mi ha detto sì ma dico qual è il scrittore contemporaneo che a lei piace di più? e lui mi disse candidamente Leopardi e allora dico ma Leopardi però insomma qui ci sono perlomeno molti altri scrittori italiani o italiani insomma europei interessanti dico ma tra i moderni le interessa solo Leopardi dice no anche Elderly mi piace molto dico cioè ci si può nutrire attraverso certe letture senza dover avere il terribile bisogno che forse è un bisogno mondano di essere aggiornati cioè di aver letto alcuni l'ultima cosa che è uscita la cosa che deve uscire cioè questo poi fa parte dei vizi delle cose un po' terribili che noi ci troviamo a vivere che sono dei bisogni indotti noi dobbiamo avere queste cose allora certe volte cercare di ristabilire il nostro rapporto con opere che ci danno effettivamente qualche cosa e cercare di svincolarci anche un po' dalla necessità di essere prima che lettori consumatori è una qualche cosa che ci dovrebbe un pochino salvare certo noi viviamo qui viviamo nel 2011 naturalmente apprezziamo molto anche la grande quantità di cose che l'industria editoriale ci offre e ci fa sentire molto ricchi io non voglio fare una polemica contro il nostro tempo perché sarebbe anche inutile anche sbagliata però certe volte mi viene voglia di confrontarmi con situazioni in cui non c'erano uomini meno intelligenti perché il vizio che hanno gli uomini che vengono dopo è sempre quello di dare torto a quelli che vengono prima ma solo perché quelli che vengono prima non possono rispondere però in realtà noi abbiamo avuto nel passato delle persone di grandissima intelligenza forse e anzi senza forse molto più intelligenti di noi quindi sarebbe un peccato dar loro torto non solo perché non sono qui e non hanno magari letto l'ultima novità che viene fuori il rapporto con la letteratura è un rapporto complicato diceva prima molto bene Antonio Franchini riferendosi all'esperienza di sua sorella che diceva voglio leggere voglio sapere come va a finire non c'è il meglio che nulla di male in questo perché in fondo è una forma di appagamento di completamento di un'esperienza però ci sono rapporti più profondi più difficili con la letteratura che passano anche attraverso la cognizione di quello che la letteratura è stata nel passato e continua ad essere ancora per noi insomma quindi direi che certo il rapporto con i libri che ci hanno formato è una storia infinita tanto per fare per citarli per fare una citazione ma colpisce il fatto che in tutti questi racconti anche quando esprimete giudizi viene sempre esaltato il senso del libro come oggetto di relazione c'è sempre un padre l'abbiamo visto c'è sempre anche magari una sorella c'è anche un qualcuno con il quale ci siamo confrontati nell'atto di leggere perché poi in sostanza il libro se rimane lì da solo non esiste esiste soltanto perché c'è una mente che cerca di decifrare di decodificare il messaggio che l'autore ha scritto diciamo ovviamente delle ovvietà e a proposito di ovvietà è uscito l'anno scorso un libro molto bello per un editore scientifico come Raffaello Cortina mi veniva in mente quando Mauri accennava alla polemia con la modernità di Nicola Scar il titolo di tutto un programma è internet ci rende stupidi punto interrogativo e tra le varie citazioni che venivano fatte da questo autore riportava il dato di una ricerca fatta negli Stati Uniti con 6.000 ragazzi di college non ragazzi insomma presi al campo al playground o al campo appunto di un'attività baseball che erano stati messi di fronte a uno schermo di un computer con una telecamera che seguiva i movimenti dell'occhio ebbene su questi 6.000 ragazzi quasi nessuno procedeva in linea retta sullo schermo come facciamo sempre noi da millenni cioè da sinistra verso destra a meno per gli occidentali ma saltabeccavano quella come se la mente zampillasse dai vari impulsi e stimoli che l'oggetto luminoso forniva loro e la deduzione appunto degli autori di questa ricerca era appunto la crisi del famoso pensiero lineare del pensiero che parte da una premessa sviluppa un discorso per arrivare comunque da qualche parte questa cosa mi viene in mente appunto quando accennava la polemica con la modernità visto che stiamo parlando di radici e visto che l'oggetto libro ci piace così tanto come la mettiamo con l'oggi vi spaventa l'evoluzione della tecnologia l'ebook vi incuriosisce siete apocalittici o integrati come vedete questo futuro andiamo avanti a colpa di citazioni qua beh sì l'ordine è sempre questo l'ordine è sempre questo ma si può anche saltare se la domanda no io credo che io mi ricordo una frase che si diceva all'epoca quando uscì il primo libro di Umberto Eco ma quello l'ha scritto al computer e sembrava anche di cartoni animati giapponesi e sembrava che il computer gliel'avesse scritto lui come se Umberto Eco avesse pigiato un pulsante e questo computer gli avesse scritto un libro ma è una frase che ripetevano anche delle persone normali non proprio dei deficienti e quindi è una cosa che lascia molto perplessi in realtà poi la stessa cosa abbiamo fatto nei confronti che so del cellulare per esempio che quando i primi hanno cominciato ad usarlo ci sono stati quelli che hanno fatto una resistenza ad oltranza io credo che di ogni forma di modernismo si debba usare il lato positivo certe volte mi domandano in che epoca vorresti essere nata in quella che verrà io rispondo sempre perché poi in fondo in quelle passate in parte ci posso anche vivere un po' mi piaceva molto quando Mauri raccontava del suo rapporto con Dickens e io ero lì a un certo punto ha detto e io mentre lo leggevo ero lì in fondo essere scrittore o essere lettore che per certi versi è la stessa cosa credo che sia il fondamentale è guadare quel fiume cioè nel senso che noi viviamo che ne so sulla sponda sinistra leggere o scrivere un libro significa guadare un fiume andarsi non so fare una nuotata o attraversarlo a piedi se è basso andare dall'altra parte ad asciugarsi e guardare l'altra sponda nella quale abbiamo sempre vissuto e quindi vedere la diversa prospettiva e dire come poteva essere diverso visto da qui il sorprendente è quello che rende un libro bellissimo e lo stupore è quello che ci rende saggi allora se nella modernità nell'assoluta modernità riusciamo a stupirci la domanda se internet ci rende stupidi mi sembra una domanda un po' stupida perché di tutto si può io poi sono un'aristotelica quindi per me tutto ciò che è nella medianità va benissimo e quindi tutto ciò che ci aiuta noi in fondo oggi mangiamo cose terribili ma viviamo di più quindi vuol dire che sotto qualche altro aspetto ci bilanciamo tutto ciò che è moderno tutto ciò che ci aiuta a progredire che è scienza che è conoscenza non ci dimentichiamo che oggi se uno scrittore sta scrivendo un romanzo sta parlando del 1930 e vuole dire che ha messo un cellofan sopra un letto va su internet e vede che il cellofan è cominciato nel 1920 quindi nel 30 ce lo può anche mettere insomma è anche di grande aiuto io credo che l'unica cosa sia prendere tutto nella misura equa senza forse esagerare forse oggi alcuni ragazzi leggiamo non so che quello è diventato matto perché è stato 48 ore a fare i videogiochi però anche se uno giocasse a pallone 48 ore vent'anni fa poteva sentirsi male lo stesso quindi fisicamente certo insomma ci sono tanti modi per sentirsi male e per stare peggio insomma quindi non vedo mai mai vedo nel nuovo questa cosa spaventosa quando poi si parla di ebook beh certo uno che ha amato i libri che ama proprio usmarli andare a metterci il naso dentro perché c'è un odore buono fa un po' impressione l'idea di avere 1500 romanzi dentro uno schermo questo fa un po' impressione poi ti dicono che però si risparmia la carta che è una cosa molto ecologica è verissimo e forse ci abitueremo anche a questo in fondo io ho fatto molta resistenza al computer perché poi mi piaceva l'idea di andare non so a pesca perché mi piaceva pescare e poi mi stufavo di pescare e magari mi mettevo a scrivere su un pezzo di carta è difficile che uno si porti un computer dove si può rovinare dove però uno trova sempre una giusta misura puoi anche andare col block notice da una parte e poi lo riporterai sul computer invece dal punto di vista di una casa editrice come quella dove lavori insomma come viene vista l'innovazione tecnologica perché non sembra rispetto ai dati che vengono dati dagli Stati Uniti sembra che l'Italia non abbia tutta questa confidenza nel parato tecnologico al momento al momento il mercato dell'ebook in Italia vale lo 0,5% quindi è di fatto è una percentuale insignificante però crescerà in maniera incredibile nei prossimi anni è molto probabile e noi non sappiamo dire non sappiamo dare una data precisa congetturalmente congetturalmente vi posso dire che nel giro di tre o quattro anni non ci sarà più nel senso che è evidente che i libri non scompaiono di colpo è evidente che nessuno di noi morirà in un mondo in cui non ci sono più libri è altrettanto evidente però che i libri diventeranno nel corso dei prossimi anni poco alla volta una rarità come sono una rarità oggi le carrozzelle cioè le carrozzelle ci sono fanno anche fanno anche colore fanno atmosfera nelle nostre case i libri continueranno a esserci perché fanno arredamento perché sono belli perché molti di noi ci sono legati però io posso dire essendo appunto io personalmente un retrogrado un dinosauro però io stesso nel momento in cui su un lettore ci carico centinaia di libri e me ne vado in vacanza con una biblioteca e insomma fa la differenza poi uno ha un bel dire che la colla è la colla che l'atto di aprire è l'atto di aprire ma lo dico io a me stesso che appunto sono nato nel mondo che vi ho descritto però è evidente che non c'è partita nel senso che preparatevi perché nel giro di 4-5 anni metà dei libri che comprerete saranno i book e nel giro di 10 anni l'80% dei libri il 90% dei libri che comprerete saranno i book io questo lo posso mettere quasi per iscritto dopodiché dopodiché molti di voi in casa i libri ce li avranno ancora ameranno ancora però non so neanche quanto lo ameranno perché dopo un po' guardate che ci ci si adatta subito io continuo a incontrare persone che mi dicono ah io ma il libro ah ma il gusto del libro e sono di solito persone che leggono pochissimi libri quelli che dicono questo vi dico perché gli acquirenti di book i più forti acquirenti di book sono forti lettori non è che sono persone che hanno il culto della tecnologia perché chi compra il cellulare di nuovissima generazione non è esattamente quello che si compra gli book sono due cose un po' diverse quindi vi dico che nel giro di non molti anni insomma dovete essere consapevoli che noi stiamo vivendo un momento che è paragonabile come rivoluzione tecnologica a quello del passaggio dai codici miniati alla stampa a caratteri mobili guardate che io che appunto ero uno studente classico studente brillante cialtrone cioè quello che l'università non studiava gli esami regolarmente ma pensava di fare colpo con le cose che imparava extra esame sono stato fottuto solamente all'esame più stupido che era quello di bibliografia e biblioteconomia perché ovviamente agli esami più stupidi erano e più i professori si intignavano mi fecero la domanda mi dissero ma il passaggio dai codici alla stampa a caratteri mobili che tipo di passaggio fu? e io dissi ah una grande rivoluzione fu una cosa e il professore mi disse no non fu affatto quello che lei pensa che fosse il passaggio fu un passaggio talmente inosservabile perché i codici la stampa a caratteri mobili riproduceva perfettamente il tendeva a riprodurre il codice nel senso che il pubblico era abituato al codice e quindi la stampa a caratteri mobili riproduceva se voi osservate un 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 testo a stampa della seconda metà del quattrocento e lo confrontate con un testo miniato se non è un testo ovviamente miniato di quelli là però voi sapete che non c'erano solamente i testi fatti dagli artisti c'erano anche dei testi dei volgari testi copiati a mano ecco un testo copiato a mano da un testo a stampa della seconda metà del quattrocento solamente un esperto lo riconosce io non lo riconosco voi non lo riconoscete e se non si fosse trattato della 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 stampa di di preghiere e di e di affissioni politiche la stampa a caratteri mobili non si sarebbe mai affermata perché per stampare per riprodurre i testi che interessavano i colti a proposito appunto dei libri non si vendono i libri non si sono mai venduti nel senso che nei codici miniati gli amanuensi che facevano sfornavano copie con grandissima velocità perché erano delle erano delle aziende erano delle industrie vere e proprie bastavano e avanzavano per appagare per soddisfare il i filo i filosofi e i poeti che leggevano in tutta Europa in tutta Europa c'erano cioè quello che vendeva un libro di filosofia in tutta Europa è lo stesso che vende oggi dal 1400 non è cambiato niente sono 2000 copie un testo specialistico un testo di 2000 copie è per altri motivi che la stampa ha avuto successo perdonatemi questa molto utile una velocissima suo parere ovviamente è inutile opporsi alla evoluzione tecnologica perché l'evoluzione tecnologica va avanti a nostro completo dispetto devo dire che inevitabilmente per cultura e abitudine io sono troppo affezionato ai libri per poter pensare che questo oggetto con il quale siamo cresciuti in tanti anni non ci sia più mi auguro che invece continui ad esserci per gli anni che ancora abbiamo davanti un po' un po' il discorso poi riguarda un po' tutta la produzione diciamo della stampa su carta anche per i giornali in fondo è un problema analogo perché chi è abituato ad avere per le mani un giornale di carta guarda con un pochino di sospetto il giornale online da leggere sul video che certamente è la stessa cosa ma è un'altra cosa e sicuramente cambierà ancora nel tempo certo ci è toccato di vivere in un momento di grandi trasformazioni e certe volte mi viene voglia di avere così fare delle battaglie per un po' di regresso invece di fare delle battaglie per il progresso posso posso raccontare un aneddoto troppo divertente un minuto solo un minuto solo è una roba che raccontava De Crescenzo molti anni fa una quindicina di anni fa se non addirittura una ventina di anni fa che lui spiegava essendo appunto ingegnere informatico spiegava a Dudula Capri a Raffaella Capri vecchio scrittore napoletano appunto rappresentante di un mondo passato gli diceva vedi Dudula vedi questa libreria che tu hai migliaia di volumi un giorno tutta questa libreria starà in 20 centimetri di di libreria le raccontava lui in 20 centimetri tu avrai dei file e ci staranno dentro tutti questi libri che tu hai in questa enorme stanza però diceva De Crescenzo sapete come mi ha risposto Dudula Capri voglio morire e ovviamente ben vivo e peggio a 90 anni allora grazie grazie a Romana Petri grazie a Antonio Franchini a Paolo Mauri grazie a voi che ci avete seguito fin qui non so se bisogna dare l'indirizzo del concerto adesso perfetto grazie ancora allora ringraziamo ringraziamo Romana Petri ringraziamo Paolo Mauri ringraziamo Antonio Franchini e Saverio Simonelli alle 23 proprio qui a fianco ci sarà il concerto del quartetto Jazz Sunrise Quartet con Capitanato dalla voce di Francesca Corrias allora un po' di informazioni per domani mi tocca leggere perché veramente abbiamo una sfilza di nomi allora dopo alle 23 intanto il Sunflower Quartet scusate ho avuto un piccolo lapsus domani alle 10.30 presso il centro d'arte e cultura il ghetto ci sarà la proiezione del film Si salvi chi può di Mario Gregu Marco Rovelli Marco Zurru Modera Vito Biolchini incentrato su lavori in condizioni estreme e difficili il secondo appuntamento organizzato in collaborazione con l'Agenzia regionale del lavoro sul tema appunto cinema e lavoro noi ci troviamo poi alle 17 fino alle 23 e apriremo con Alessandro Zaccuri con un Alexio su Giacomo Leopardi proseguiremo poi con Giorgio Fornoni Gianluca Favetto Saba Anglana Karim Metref Alice Zenitè Gianni Biondì Loranda Gasi Elena Janecek Paola Siega Michele De Mieri e I Jacare il concerto appunto delle 23 finisco di dirvi altre due cose prima cosa i libri scritti dagli scrittori di Leggendo Metropolitano si possono leggere e acquistare nei banchetti alla vostra destra e alla vostra sinistra sulle scalette lo spazio allestito dalla libreria d'Atena e d'Atena Mondadori appunto possono essere acquistabili e autografabili dagli autori la CTM che ha reso Leggendo Metropolitano sostenibile ha raddoppiato per l'occasione i collegamenti della linea 7 che vi consente quindi di raggiungere Castello con i mezzi pubblici io vi do la buonanotte vi auguro buon ascolto del Sunflower Quartet e l'appuntamento è a domani con Leggendo Metropolitano buonanotte Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti